Dopo una settimana di duro lavoro per l'US Agropoli, la squadra allenata da Mr. Cianfrone riprende oggi gli allenamenti. A margine dell'ultima seduta di allenamento sono arrivate le parole del viceallenatore Alfonso Liguori e del centrocampista Paolo De Cristofaro. Abbiamo concluso la prima settimana di lavoro con grande entusiasmo, ha detto il tecnico Liguori. Il gruppo lavora molto bene, con il sorriso, ma anche con grande determinazione. È un onore per me aggiunto poter stare ad Agropoli, una piazza che ha fatto la storia del calcio campano. Nonostante il gran caldo abbiamo fatto una settimana importante di grande lavoro in vista dei primi impegni. Sono molto felice inoltre del gruppo che si sta creando e credo che continuando in questa direzione potremo fare grandi cose.